C'è un film di animazione, spero che qualcuno di voi l'abbia potuto vedere, anche perché io mi auguro sempre che sia la platea a fare qualche domanda piuttosto che quelle che faccio io, che sono di una banalità sconcertante. Però in mancanza d'altro poi sopperisco. E quindi se qualcuno avesse delle curiosità, qui abbiamo la regista Chiara Malta e Giorgia Fassiano, detto giusto, Fassiano di I Wonder. E iniziamo. Linda Wutt è un film di animazione ed è una storia, io mi sono permesso di interpretarla, o quantomeno l'ho interpretata come un'elaborazione di un lutto da parte di una bambina, attraverso anche l'aspetto culinario, perché c'è questo desiderio di questo pollo con i peperoni che il papà può in un certo senso avergli preparato quando lei era piccola, quindi è anche un ricordo d'infanzia di questa cosa qui. Papà italo-francese. Chiara? Aspetta. Non so se è un film sul lutto, perché quando uno dice elaborazione di un lutto c'è subito qualcosa di pesante che si installa. È più un film sulla ricerca della memoria che mi sembra una visione più viva, più interessante, anche più attiva, meno passiva. elaborare un lutto forse non è neanche adeguato per una bambina disattiva. Certo, certo, non ci sono neanche gli elementi... È un film sulla ricerca della memoria, è un film sul rapporto madre-figlia con una madre che non è performante per niente, che è una madre vera, autentica, che fa tanti errori, che si deve fare perdonare. È un film che rende giustizia, perché la protagonista ha subito un'ingiustizia e i bambini ne subiscono tante. È un film sull'ingiustizia dell'infanzia, è un film sulla collettività, sul fatto che insieme è più semplice farcela, che è da soli, che è più bello anche stare con gli altri. Io mi ricordo quando ero piccola, che sembra un pensiero che non è proprio al centro del film, però mi sono ricordata di una sensazione, volendo fare un film per bambini, che era quando uno da bambino vive fuori con gli altri ed è felice, e poi a un certo punto ti chiamano i genitori e devi tornare a casa. Allora a casa c'è la solitudine, c'è qualcosa di più di grigio ed è quello che tu hai vissuto fuori, non è condivisibile con l'adulto. Allora io volevo fare un film perché la mamma uscisse con la figlia e condividesse l'avventura. E poi a quel punto tante cose che non erano dette appunto sulla morte del padre possono riemergere, però piano piano e insieme. Chiara vogliamo dare dei piccoli elementi di trama senza spoilerare troppo un po' la cosa, ma proprio degli accenni anche per chi non l'avesse visto e volesse fare delle domande, visto che un film d'animazione è un film sui generi, nel senso ci sono preparazioni completamente diverse, un lavoro enorme alle spalle, forse molto di più di un film in girato insomma. Io ho anche delle difficoltà a dire che è un film d'animazione, per me è un film in animazione, l'animazione è una tecnica, quindi trovo terribilmente noioso mettermi a parlare d'animazione. Quello che posso dire è che un po' nell'idea di fare un film in animazione, volevo che l'estetica di questo film fosse un po' coerente con l'argomento, visto che a un certo punto è un film in cui ci si ribella, allora Linda che è la protagonista si ribella, e poi a un certo punto tutti gli abitanti di questa cité, e volevo in qualche modo, non dico ribellarmi, però non rispettare la cronologia di fabbricazione in animazione, volevo fare in un altro modo, volevo fare un po' di testa mia, come farebbe un bambino, è l'ultimo della classe forse, quindi questo per rispondere alla questione dell'animazione, che vuol dire concretamente decidere di fare un set sonoro, perché i personaggi esistano, perché non siano delle voci che vengono appiccicate alle immagini, con un effetto così di microfono in cui tutto è imbalsamato, in cabin speak, quello che si fa poi in animazione, ma che il suono precedesse il disegno, e che quindi la linea nascesse dal suono, quindi ho fatto un set sonoro in cui gli attori hanno recitato, evolvevano proprio negli spazi del film, e una volta terminato il suono, che mi ha fatto anche riflettere alla messa in scena, perché quello che mi stupiva è che quando si fa un film d'animazione, uno dà una grande fiducia alla sceneggiatura, come se il film fosse finito, chiuso, ed è il film l'applicazione della sceneggiatura, nei film dal vero invece la sceneggiatura è solo il primo gradino, perché poi una volta che uno gira, tante cose cambiano, viene proprio rimessa in discussione la sceneggiatura quando si va sul set, e a quel punto il film vive, quindi non volevo privarmi di questa tappa, mi sembrava fondamentale al cinema, non in animazione, quindi il set. E poi c'è stato anche un rapporto alla linea in cui non c'erano modelli di personaggi, questo sempre partiva da una riflessione in cui al cinema gli attori non hanno mai lo stesso volto, a seconda delle scene cambiano espressione, ci sono attrici che si trasformano da una scena all'altra, e quindi non volevo questo famoso model sheet che uno ha in animazione, che mi sembra che ingessava tutto, anche i personaggi, e volevo che potessero cambiare volto in ogni istante, e quindi non avevo questo accanimento nel rispetto del model sheet, volevo una linea viva, agli animatori è stato chiesto di avere una linea viva, libera, in cui il movimento è più importante della figura, quindi tutto questo ha un po' scardinato certe regole dell'animazione, o per esempio anche il colore, volevo la monocromia, in parte perché c'è un libro dell'infanzia che si chiama Piccolo Giallo e Piccolo Blu, che ho proprio nel cuore, e poi perché costava anche di meno, un film a basso budget, ho presentato a basso budget, è un film in cui c'è più libertà, questo è vero anche in animazione, e rispetto alla questione del colore, non mi andava di perdere tempo a disegnare tutti i dettagli di questi personaggi, in cui in realtà la monocromia era pure un velto di libertà, di nuovo come i bambini che si mettono a colorare quando ci sono gli album di coloriage, come si chiamano, di solito i bambini non è che sono attenti a rispettare il colore della faccia invece di quello dei capelli, tendono magari a fare un personaggio tutto verde, ecco in questo diciamo che mi sono un po' io messa a livello di un bambino, mentre il film i bambini, attenzione, secondo me li tira verso l'alto, perché di fatto volevo una commedia che raggiungeva anche dei momenti di... per esempio in mente avevo dei film di Bogdanovic, ecco io non lo so se Bogdanovic è un film, uno pensa immediatamente è un film per l'infanzia, in realtà i bambini possono vedere tutto, ecco, e considerarli delle persone, tira i film verso l'alto, ne parlavo poco fa anche con un altro giornalista che non poteva essere qua, che è curioso come quando si fa un film per bambini si infantilizza, si semplifica la realtà, sono dei film per lo più per stupide persone, quando i bambini in realtà passano il loro tempo a interpretare la realtà, non capiscono niente della realtà, quindi il loro cervello lavora molto più di un altro, fare un film che include i bambini è anche fare un film per degli adulti, ecco io non vedo contraddizioni, non so se ho risposto alla questione della trama, la trama è talmente un pretesto per raccontare una galleria di personaggi assurdi, per criticare i luoghi comuni, per mettere insieme il personaggio della mamma e della figlia, per allargare il numero di personaggi, quindi partire da un interno cucina con due persone, quindi tristissimo e far chiudere il film in una piazza con 300 persone, che quindi ne parlo sempre poco, la questione è che la bambina effettivamente formula un desiderio, che non è un desiderio capriccio, che è un desiderio importante, per quanto la zia critichi questo desiderio dicendo che chiedeva da scemi, chiedere un pollo. Beh la zia anche per convinzioni sue personali, di stili di vita, è contraria credo un pochino. Sì, poi la zia è molto rigida, piano piano si ammorbidisce, però è un personaggio che è imbevuto di ideologia, in realtà poi fa pensare a tante persone che fanno la propaganda dello yoga, della zenitudine, poi invece finalmente sono molto nervose. Ma infatti le dinamiche degli adulti sono molto realistiche, molto veritiere. Sì, volevo criticare, è un film che poi critica, che prende in giro, un film insolente, quindi l'idea era di avere dei personaggi che io potessi prendere in giro, che poi la questione era, prendo in giro il bambino e gli adulti, se faccio un film per i bambini è l'adulto che prendo in giro, e chi cade col sedere per terra, l'adulto e il bambino, di solito cade sempre il bambino, e facciamo cadere gli adulti. E questa cosa secondo me ha come una forma di indulgenza nello sguardo che porto anche sugli adulti, per cui l'adulto si sente accettato pure nei suoi difetti, nei suoi errori, nelle sue debolezze. Sono tutti deboli i personaggi del film, perché siamo forse un po' tutti deboli. E i maschi, questo ci tengo molto, sono tutti mammoni. Ci tengo proprio tanto, perché è un modello di maschio poco comune, più veritiero forse. Faccio una domanda a Chiara Fassiano, come entra i Wondere, poi preparate voi delle curiosità per loro, come entra i Wondere in questo progetto? Noi entriamo, innanzitutto amiamo molto il progetto di Chiara e siamo molto felici di portarlo, di distribuirlo, perché i Wondere ha cominciato a puntare sull'animazione da un po' di tempo, in maniera insomma importante. e quindi il film di Chiara è per noi uno dei punti fondamentali della prossima stagione, per cui in estate staremo felici di poterlo portare in sala. L'animazione per la distribuzione è sempre considerata un po' complessa come prodotto. Si tende a pensare all'animazione come appunto film per persone stupide, come diceva Chiara, o comunque per bambini intesi come film semplici o fruibili da un pubblico limitato. Quello di Chiara non lo è, così come non lo sono tendenzialmente i prodotti di animazione che decidiamo di distribuire. Quindi ecco, il nostro supporto, il nostro apporto al progetto è, con super entusiasmo, cercare di distribuirlo e di raccontarlo al meglio possibile, proprio perché non è un film per bambini, è un film importante per tutti e ci piace provare insomma a trasmettere il valore in sala. Domande? Allora, ne faccio una. Ah, una forza, attenzione. Aspetta, arriva il microfono. Mi ha incuriosito molto la scena finale, adesso senza appunto fare spoiler, però dove si vede questa famiglia un po' ricongiunta, e a un certo punto i personaggi entrano dentro queste figure concentriche colorate e si inseriscono in una figura più ampia dove ci sono tante altre figure concentriche colorate. Mi è piaciuto molto perché era come se finalmente avessero trovato un posto nel mondo, però ovviamente volevo sapere anche il suo parere su questa scelta perché mi è piaciuta molto. Parla dell'epilogo? Sì. Ma c'era un'idea di ricomposizione che però non è per forza familiare, è più un'idea di tribù. Poi a me l'idea di famiglia mi sembra veramente una struttura sociale, quindi c'è molto poco di intimo nell'idea di famiglia. È più un'armonia, sì, ritrovata. E quest'idea delle bulle, quindi dei cerchi, è un'idea così di contenitore della memoria che poi quando si allontana diventa un punto per poi definitivamente sparire. Sono come, dico delle stelle, ma forse dei pianeti. E quindi sì, tutto questo ridiventerà memoria, ma di nuovo un film più che sul lutto è sulla memoria. Perché poi sì, la verità è che poi moriamo tutti, quindi tutte queste vite che stiamo attraversando diventeranno memoria. Altre domande? Mi ho turbato con quest'ultima affermazione. Eppure è una commedia, ve lo giuro. Assolutamente, ma poi lo sai, hai vista, quindi garantisce anche lui. Scusate, io vi do del tu, perché potreste essere i miei nipoti. No, è bello che ci siano... Poi loro la maggior parte sono degli studenti del Dams, quindi credo che siano anche interessati in maniera molto, diciamo, passionale a questo tipo di esperienza. Chiara, volevo chiederti, intanto questo film è in corregia, no? Con Sébastien? L'Odenbach, sì. È la prima volta che ho collaborato o la vostra è proprio una ditta, tra virgolette? No, noi sono almeno vent'anni di collaborazione che ci attraversa, in vari modi. È stato cosceneggiatore di alcuni miei film o dei suoi, è stato direttore dell'animazione su alcuni film in cui avevo animazione e immagini dal vero. Piuttosto ci conosciamo molto bene. Io, diciamo, ho chiesto a Sebastián di occuparsi della direzione dell'animazione, quindi c'erano degli animatori che disegnavano e lui li coordinava in qualche modo. Poi ci sono una serie di scelte di messa in scena in cui ero sicura che lui mi avrebbe seguito e che quindi la linea si sarebbe piegata al senso del film e quindi avrebbe fatto l'impasse di tante cose, precisione, rigore, organizzazione. Sapevo che potevo fidarmi di lui in questo senso, soprattutto perché in attesa che il film potesse essere disegnato, Sebastián aveva fatto un lavoro di ricerca sul suo primo film che ha disegnato interamente da solo e all'epoca io ero a Villa Medici e sono stata residente un anno lì per scrivere il mio primo film, Simple Women, che è stato presentato a Torino, tra l'altro. Con Jasmine Trinca, se non sbaglio. E quindi lo guardavo disegnare e vedevo che c'era questa priorità data al movimento e quando ha terminato questo film gli ho chiesto di prestare questo lavoro di ricerca sull'animazione a L'Indave du Poulet. perché mi sembrava che i tempi fossero maturi a quel punto perché il film potesse esistere. Perché l'avevo scritto tanto tempo fa in realtà, io poi sono dei film che hanno questa storia qua, quindi una volta scritto l'ho messo in un cassetto perché i tempi non erano maturi per quel tipo di ricerca sul disegno, che poi non è più una tecnica che avrebbe servito uno scopo. Quindi volevo che tutto parlasse, dialogasse con tutto e quindi un certo tipo di tratto, un certo tipo di organizzazione del lavoro e una scrittura che era già fondata sull'idea di incidente perché in questo effetto domino, che poi è un effetto molto classico diciamo nella commedia, c'erano tante sorprese anche per me che scrivevo. Allora adesso incontro questo personaggio, quale incidente mi può portare a un altro personaggio e quale incidente può ancora allargare l'orizzonte narrativo di questo film fino poi ad arrivare, a ritornare al punto di partenza però con 50 personaggi invece di due, diciamo. E questa politica dell'incidente io volevo che fosse anche nel disegno, quindi diritto all'errore, nella registrazione delle voci, improvvisazione, diritto all'errore. Volevo che il film fosse proprio impregnato di incidenti perché mi sembrava che potesse così guadagnare in vita, vivacità. E quindi Sebastiano è subentrato proprio per questa sua... la tecnica di Sebastiano metteva l'incidente quindi era perfetta, per questo l'ho chiamato. Abbiamo tempo anche per altre domande, c'è qualcosa? Qualche curiosità? Eccolo. Magari se ci dite nome e cognome così possiamo anche conoscerci, che è carino. Io sono Enrico Nicolosi del CineDams e volevo tornare a quel momento, diciamo poco artodosso, probabilmente per l'animazione, dove tu hai lavorato con gli attori come se foste in un set. Volevo sapere anche loro come hanno recepito questo modo di fare che forse è particolare e se si sono trovate il loro agio nell'essere un lavoro più legato all'attore, più vicino all'attore, più da set. Oppure se si sono sentiti un po' diciamo fuori contesto, magari se loro pensavano di fare un classico film d'animazione. Cioè è stato un po' difficile convincerli oppure sono saliti subito... Ma no, al contrario, perché di solito un attore quando interviene soprattutto di nome, che era poi il mio caso, perché diciamo Clotilde Demme, almeno in Francia, è molto conosciuta, ha fatto molti film di Christophe Honoré, Letizia Doce, era proprio un suo momento di gloria, anche Stebana, sono tutte voci francesi. Poi il film in Italia è stato doppiato, diciamo, per l'uscita italiana. Però erano attori che io non ho chiamato per doppiare il film, approfittando del loro nome, che su una locandina poteva portarmi pubblico. Io ho proprio fatto un lavoro di casting perché volevo lavorare con quegli attori che sembra un paradosso in animazione, ma non lo è. E quindi erano già contenti di essere stati chiamati, non per le loro qualità vocali, ma attoriali. E inoltre, credo che per un attore era panacea, perché loro erano su un set, quindi liberi di muoversi e di interpretare. Però senza essere filmati, quindi l'attrice arrivava vestita con la tuta, non gliene fregava niente, non aveva vincoli d'immagine. Poi il fatto che non ci fosse la cinepresa ha alleggerito questo set, dove regnava un'atmosfera assai paradossale, perché noi quando giravamo sono venuti a trovarci dei giornalisti di Cagliudicinema e cercavano la cinepresa, che non c'era, però c'era la segretaria di edizione, c'era il fonico, c'era il boom, c'era tutto. C'era il combo, solo che non c'era, quindi c'era il clap, il ciac, c'era la messa in scena. Io davo indicazioni agli attori, perché volevo vedere come si muovevano nello spazio. E poi c'ero io in un angolo che li guardavo, li ascoltavo soprattutto, e poi annotavo i punti macchina, che sul momento non avevo. Facevo foto, non è stata una rotoscopia il film, perché volevo avere proprio, anche io volevo lavorare con la memoria. E la memoria era la memoria di questo set che era avvenuto. Quindi no, gli attori erano molto contenti, poi era un'operazione veramente inedita, erano curiosi, credo che l'unica frustrazione veniva dal fatto che loro non avevano i disegni, e quindi tutto riposava sulle loro spalle. Loro, sentendo film da animazione, credo che si aspettavano di vedere una realtà già esistente, e invece la realtà erano loro. Domande? Io ho due curiosità allora a questo punto, se nessuno alza la mano. Prego. La prima è se questa tecnica di far recitare, prima con la voce il film, era una cosa che avevi in mente tu, oppure hai mutuato da qualche altra esperienza di altri artisti. E la seconda, mi piacerebbe sapere il nome dell'attore italiano, che doppia il papà di Linda. Allora, no, questa era un'idea mia, perché proprio ho poca fiducia nelle cose che scrivo, quindi finché non vivono sul set, avevo proprio paura, cioè passare dalla mia sceneggiatura al film disegnato, era una scommessa troppo grande. E quindi immediatamente ho detto al produttore, io ho bisogno del set, tra l'altro c'è un progressivo caos che si installa nella storia di questo film. Chiaramente in sceneggiatura questo progressivo caos era raccontato in modo sommario, perché sennò al lettore, soprattutto per i finanziamenti, gli girava francamente la testa, non avrebbe capito più niente. Quindi tanti dettagli, non ho potuto metterli in sceneggiatura. E infatti è stata fatta una redazione di sceneggiatura dopo le riprese. Non è che non c'entrino niente le due sceneggiature, però la seconda è molto diversa dalla prima. Gli attori hanno potuto improvvisare delle cose, poi è chiaro che una volta che l'attore improvvisava mi interessava una cosa, poi come si fa spesso nei set, almeno poi non tutti, almeno io, poi la fissavamo ed era quella la cosa della battuta che diceva infine. Però ecco, tutto questo arricchimento che dà il set, ma anche dal punto di vista visivo, posso dire, perché in testa avevo fatto una specie di pre-decoupage, una lista inquadrature sommaria che uno fa mentre scrive, già certe cose ce le ha in mente. E certe cose sono state completamente stravolte dal set, perché mi sono detta ma come mi è venuto in mente di mettermi in lacco la cinepresa? Dico bene cinepresa perché non disegnando, io avevo delle maquette, quindi dei modelli 3D, dove facevo passeggiare la cinepresa, quindi per me in qualche modo è stato come fare un film dal vero, sapendo che non ho fatto assolutamente storyboard, perché mi sembra che un modo per incastrare film che non rispetta la presenza dell'attore, lo incastra nell'inquadratura, lo storyboard. Come dire a qualcuno fumati una sigaretta abbassandoti perché l'inquadratura è bassa. Quindi no, la stessa sigaretta se la fumavano come gli pareva e poi la mia cinepresa si adattava al movimento dell'attore. Volevo la stessa cosa in animazione, quindi diciamo che ho chiesto immediatamente di fare quello che si chiama l'animatic, che è come un girato fatto con degli schizzi, che quindi può essere buttato, che non ha nessun tipo di valore in sé, perché avevo bisogno di lavorare un po' come dal vero, quando uno in realtà gira da qua a qua, ma un po' più tempo del previsto, perché non si sa mai cosa acchiappa la cinepresa. Io ora è la stessa cosa col disegno. Non so se ho risposto più alla prima domanda, comunque la seconda è Pietro Sermonti, che si è molto divertito, molto messo in crisi, perché lui quando è venuto, allora lui ha partecipato in un secondo momento, perché io avevo un attore che interpretava il ruolo del papà, che non ho proprio molto amato, è stata un'esperienza per me non esattamente soddisfacente, e qua, privilegio dell'animazione, l'ho potuto cambiare, quindi mentre in un film uno avrebbe dovuto rigirare tutte le scene col padre, io invece ho invitato Pietro Sermonti, però nel posto in cui lui diciamo si è messo in scena, ho fatto di tutto, gli ho messo cuscini, libri in testa, perché lui vedendo una sala si è adattato, perché fa anche forse doppiaggio, e gli ho detto no, qua è troppo rigido così, ti devi muovere, devi parlare a un pubblico potenziale di bambini, ti devi mettere in scena, devi fare il buffone, e quindi lui si è molto stancato, ma pure molto divertito, e ha dato effettivamente qualcosa al film di bello, di autentico, che a me piaceva lui molto per la sua autenticità, c'è qualcosa di molto, non so, spettacolare anche, c'è una specie di franchezza, proprio sincerità, ma spettacolare, e quindi volevo questo dal padre, perché poi il padre, quando arriva, uno non se lo deve dimenticare più, e per questo poi l'ho messo anche in smoking, c'è tutto un rituale, volevo che ci fosse questa specie di, quest'ultima canzone, sì che abbiamo parlato poco delle canzoni, ma volevo un film cantato, anche allegro, e la canzone che ha cantato Pietro, che è un film, che è una canzone che io poi ho detto al musicista, che lui in realtà aveva arrangiato in un modo tristissimo all'inizio, perché le parole non è che siano proprio allegre, parla del giorno in cui è morto, dell'ultimo caffè, sembrava l'ultimo istante di vita, però volevo che fosse una cosa appunto spettacolare, quindi di tip-tap, da uno spettacolo di proiettori, come, non so se l'avevo detto anche prima, che avevo in testa All That Jazz di Bob Foss, quindi ho detto io voglio che la morte dialoghi proprio con la vita, e quando Pietro, diciamo, ha interpretato l'ultima scena, quando arriva in cucina, che sfoglia questo vecchio libro di cucina, tutto impolverato, finalmente trova questa ricetta e poi si mette a cantare e parte il proiettore, per me c'era solo lui, ecco, che poteva farlo. Allora, Linda il pollo, I Wonder ci ha detto che in primavera potremo vederlo nel sale. Confermi? Inizio della bella stagione. Perfetto, grazie. Venite, parlatene a tutti, perché se no si è mai... perché l'animazione non è una sottogamma di film. Grazie. 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 Grazie.